Ci sono delle finte reliquie degli assassini nel distretto degli arazzi. Speriamo di attirare qualche templare curioso. Posso aiutare? Controlla se qualcuno si è interessato a questi arazzi. Potresti trovare un agente templare. Speratevi! Speratevi! Spagli lì, spagli lì, spagli lì. Spagli lì, spagli lì. Spagli lì, spagli. Andiamo! Non dovete fermarti! Se sono parte di un'abilitazione, toccherà tutti i traditori un'altra volta. Dovete prendere i suoi spagli. La pagherai. Anticipiamolo! Non ci crederai! Ma l'arazzo che ti interessa è appena stato rubato! Ma che coincidenza! Chiedi in giro! Qualcuno avrà visto dove è andato il ladro. Forza, inseguilo! C'era uno che correva! Mi dispiace, non so di che stai parlando. Noi, non so di che stai parlando. Non so di che stai parlando per la vita! Non so di che stai parlando! Non so di che stai parlando! Non so di che stai parlando! Trange maniera di farlo. Ho appena visto qualcuno correre in quelle fogne lì davanti. Allora, qua c'è! Dav franciscente è avanti. Torna qui! Sì, qualcuno è appena uscito dalle fogne, andavano verso sud, lontano dal Pantheon. Per di là che c'è stato? È passato da qui! È passato da qui! No, no, grazie, non mi interessa. Ho visto qualcuno correre verso ovest. Niente mancia? Sì, è andato a sinistra! No, a destra! No, a sinistra! Credo! No, no, grazie! 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 Arrivatezino, grazie! Ii sono ammettati! No, no la mente è da agli acquistere! No, grazie a me! No, grazie a me! È un dottore! Monaca! Un taglie! 편zino! Oh! Il suppose qu'il y a quelque chose. Appelez la garde. Il y a au moins un voleur ici. Sous-titrage ST' 501